Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta nuvola con orange card. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, fecola di patate, latte, olio di semi di arachidi, zucchero, uova, lievito per dolci vanigliato, vanillina, pasta d'arancia o scorza d'arancia, sale e orange card. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero ed azioniamo il baby per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le uova, la farina, la fecola, l'olio di semi di arachidi, il latte, la pasta d'arancia, la vanillina, il sale ed il lievito ed azionare il baby per due minuti a velocità 6. Versare il composto in uno stampo da 26 centimetri ben imburrato. Mettere l'orange card sulla superficie della torta. Cuocere in forno per riscaldato statico a 160 gradi per 45-50 minuti circa. Fare sempre la prova stecchino. La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo, spolverizzare con zucchero a velo e servire. Torta nuvola con orange card. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!